Studio e sulle note dei nostri meravigliosi Banda Larga io vi do appuntamento a mercoledì prossimo con la sesta puntata di Per Sempre il gioco in cui si impara ad amare! Per ripasso la tabellina del 2 Quanto fa 2 per sempre? Non fa 10, non fa 100, non fa un milione Fa io e te Per ripasso la tabellina del 2 Quanto fa 2 per sempre? Non fa 10, non fa 100...